Tu sai che ho sempre amato il calcio e che sono presidente di una piccola squadra, ti prego, prenditene cura. Non c'è feeling intesa con l'allenatore. Allora cambiamolo, no? La mia risposta è il no. Iniziamo a lavorare. Fai cosa ti ho detto e basta. Dimmi che minchia vuoi! Sei sicuro di quello che fai? Ho lasciato Luca. Ma su queste cazzo di sedici sono io. Questi sono i miei ragazzi. La mia squadra. Buon appetito! Buon appetito! Grazie a tutti